Ciao, benvenuto. Io sono Manuela e sono qua per invitarti a partecipare al mio corso Riscopri la tua sensitività. Che cosa consiste? Consiste in un percorso pratico in cui ti verranno dati degli strumenti molto importanti per ritrovare quello che è il tuo universo interiore e quelli che sono gli strumenti che tutti noi abbiamo nel nostro cuore ma che ci siamo dimenticati di avere. Quegli strumenti che ci portano all'apertura del settimo senso. Che cos'è il settimo senso? Il settimo senso è la nostra extrasensorialità e quindi lo sviluppo della chiarosenzienza, della chiaroveggenza e della chiarudienza. Come ti dicevo sarà una giornata intensa in cui lavoreremo in gruppo, lavoreremo in coppia, sperimenterai il famoso remote viewing, lavoreremo con i colori e ti insegneremo anche come percepire l'aura, come percepire i colori e come interpretarli per poter avere una chiara visione di te stesso e anche degli altri. Ti aspettiamo. Grazie. Un abbraccio angelico. Grazie.